Francesco il capo classe signor Paolo Cirino Pomicino è il momento della prova a sorpresa aiuto non mi fate intimorire noi sappiamo che lei anche da piccolo era un grande appassionato di calcio da seguirlo alla radio e guardarlo in televisione per questo mi seguo la prego ora le faremo ascoltare cinque sigle di programmi sportivi famosissimi speriamo che me li ricordi e lei secondo per esempio lei ascolterà la prima traccia secondo lei il novantesimo minuto con questa penna scriverà qui uno e così via con i numeri è pronto vediamo parliamo partiamo con la prima traccia errore non è domenica sprint tutto il calcio minuto per minuto ma questa addirittura per la radio tutto il calcio minuto per minuto l'unica cosa avrei dovuto sapere vista la mia età va bene andiamo avanti passiamo alla seconda perfetto bravissimo qua scriva uno ora partiamo con la terza quindi abbiamo due risposte corrette e una risposta errada ascoltiamo la quarta complimenti non posso più perdere 3 a 1 non posso più perdere e quindi ascoltiamo comunque la quinta 4 risposte corrette contro una sbagliata complimenti non male non male perfetto torniamo alle nostre domande ma venino e questo si parla Grazie a tutti.